Ciao, ho appena finito questo braccialetto tintinnante. Ciao ragazzi, questo braccialetto con i chans, vedete, che ho realizzato con pezzi di recupero, con bottoni e altre cose che ho ritrovato, che ho rintracciato nella scatola dell'ucito, infatti il tema principale di questo braccialetto è cucito. Sono tutte cose di recupero, però io lo trovo carino, è roba un po' che volevo crearlo, quindi vi mostro come ho fatto e spero che vi piaccia. Vi mando un saluto, grazie a tutti e grazie alle persone che si sono iscritte ultimamente, siamo oltre 500, vi ringrazio di cuore e vi mando un bacione, ciao! Dunque, vediamo cosa abbiamo qui. Allora, ho recuperato all'interno di una scatola questo braccialetto Gutterman che ho comprato al supermercato praticamente, vedete, che non è mai stato usato e che vorrei usare, ha una chiusura T, è un po' lungo, però adesso vi mostro come fare per accorciarlo. È carino, eh? Bello con la maglia grossa. Allora, poi ho dei vecchi chiodini che vorrei usare finalmente, dei chiodini dorati, eccoli qui. Poi, allora, vi dico subito che per fare questo bracciale mischierò un po' di metalli, di colori, perché si può fare benissimo, nulla vieta che si mischi in i metalli. E quindi ho trovato questo bellissimo ditale da cucito vecchio, vedete, che devo forare però, ok? Poi una fibbia, dei bottoni vecchissimi, questo è vecchissimo, bellissimo anche, io ho una piccola collezione di bottoni. Allora, bottoni dorati sul rosso. Questo è strano, sembra ricoperto di pelle, una cosa del genere, non è pelle ovviamente, è una cosa finta, però è carino, ricorda il cuoio delle fibbie, no? Delle cinture, cioè, qualche bottoncino dorato e qualche bottoncino metallico blu-argento, molto vecchi questi. Poi c'è questo gancio da cucito, insomma, chiamiamolo così. Una rotellina per la macchina da cucire della Singer e qualche bottone. Ancora dei bottoni. Poi ci vorranno le solite pinze per tagliare, la taglierina, la pinza punte coniche. Può darsi che serva qualche altra pinza, però questo è veramente l'essenziale. E poi io dovrò forare, come vi dicevo, dovrò forare qui. E utilizzerò una base, sicura, una base solida, e un punteruolo con martello. Allora, la prima cosa che devo fare è accorciare un po' il braccialetto, quindi togliere delle maglie. Allora, questo anellino più piccolo, che tiene la chiusura T attaccata al braccialetto, si può aprire. Quindi con due paia di pinze, che tengono da una parte e dall'altra l'apertura dell'anellino, posso aprire l'anellino con un movimento laterale. Laterale, se no si sforma e si rovina. Quindi sfilo le maglie, tengo da parte la chiusura, due o tre maglie, poi ognuno magari vedrà, vanno tolte. Io le taglio, quindi ne toglierò un paio, ne tolgo un paio. Aha, è un po' duro. Eh, ho rischiato, eh. Ho rischiato le pinze. Allora, ho tolto un paio di maglie, adesso posso di nuovo, dunque, prendere qui. di afferrare l'anellino. Vedete, l'ho rimesso e adesso lo chiudo, sempre con un movimento laterale, che è quello più sicuro, per non deformare. Chiuditi, ecco qua. Ok. Fatto. Ecco, allora adesso viene la parte, diciamo così, più difficile, in un certo senso, ed è quella di forare questo ditale da cucito, vedete, qui ha un punto centrale. Allora, io utilizzerò un punteruolo, uno di questi punteruoli che facilmente magari avete, potreste avere anche voi a casa. Ecco, lo punto, devo avere naturalmente una base sicura, solida, ferma, su cui lavorare, e che, naturalmente, non si rovini più di tanto. Allora, adesso io punto al centro il punteruolo, certamente. Ok. E con il martello, voi non vedrete il martello, ma lo sentirete, do un paio di colpi sicuri. Vediamo. Eh, sì, si è forato, un po' lateralmente, ma si è forato, direi che va bene. Un filo dovrebbe passare. Adesso, se dovesse essere, dovesse graffiare un pochino, allora, fatemi fare così, in modo che rientri. Ecco, se dovesse graffiare un pochino, magari potete limarlo, lisciarlo, però vedo che non, pare che non graffi. Allora, vediamo intanto se passa il chiodino, perché se non passa, eh, è finita, deve passare il chiodino. Ih, quasi quasi, per pochissimo. Allora, ripeto l'operazione, sempre allo stesso punto. Ok, un po' più largo, vediamo se passa il chiodino. Eh, sì, perché lo dovremo appendere, quindi, ecco qui, perfetto. Allora, adesso si passa alla preparazione dei charm, dei charms, anzi. Avete visto come ho forato questo vecchio di tale da cucito? Quindi, ho inserito, ecco, così potete vederlo meglio, un chiodino. Sto usando, notate che sto usando i chiodini lunghi, sono quelli più sicuri per questo tipo di charms, perché ovviamente sono molto grandi. E, ecco, il chiodino tiene in questo modo. Ora qui farò un piccolo cappio per appenderlo alla catenella. E farò in questo modo. Sposto, come mi avete visto fare varie volte, il filo da una parte, poi con le pinze a punte tonde afferro questo filo, e farò un cappio in questo modo. Il filo dei chiodini, il metallo, cioè dei chiodini, in genere, è abbastanza resistente, diciamo, relativamente resistente. E quindi si può utilizzare anche per questo tipo di lavoro. Poi, magari, cercate, possibilmente, sforzatevi di fare dei capi più o meno, insomma, della stessa grandezza, della stessa dimensione. E taglio. Taglio, in modo da avere un semplice circoletto, una chiusura semplice. In questo modo. Allora, appiattisco. In questa maniera, raddrizzo, dove c'è da raddrizzare. Ok? In questo modo. E questo è pronto. Ed ecco i nostri charms. Uno lo avete già visto, è già completato. Qualcuno l'ho preparato per fare una prova. E adesso vi mostrerò come agganciarli e come legarli, poi, unirli alla catenella. Allora, sono un po' diversi, quindi bisogna studiare una tecnica lievemente diversa a seconda del pezzo. Perché c'è il pezzo che può essere tranquillamente legato da un'asola, dalla cornice, perché questo è un bottone traforato, quindi io potrò legarlo da qui, per esempio. Però poi c'è il bottone che invece non ha fori, ma che ha l'asola posteriore. Allora, vediamo come fare in questi casi. Allora, prendiamo un bottone. Partiamo da un bottone. Qui c'è solamente l'asola posteriore che possiamo sfruttare. È molto, molto larga, quindi dobbiamo studiare una specie di chiodino che tenga, che non fuoriesca da qui. Utilizzate un pezzo di filo o un chiodino, anche senza capocchia, perché la capocchia la faremo noi in questo momento. E faremo in questo modo. Allora, tenete presente quindi il foro. Io farò una spirale, afferro un'estremità del filo, e farò una spirale di un paio di giri che sia abbastanza grande. E adesso questo è anche molto grande, forse, però tanto per capirci. Vedete? Questo è il mio chiodino. Il chiodino che utilizzerò per fermare questo bottone. Ecco qui. In questo modo non uscirà. Vedete? Ora, non mi resta che creare l'asola che lo aggancerà al braccialetto. Io mi tengo al di sopra della cornice esterna del bottone. Cioè, cosa vuol dire? Non farò qui l'asola, la farò qui, insomma, all'altezza di questa cornice. In questo modo piego leggermente. Poi afferro la parte lunga del chiodino. Allora, levo di mezzo tutto perché magari disturba alla vista. E creo un'asola. In questo modo. Ecco, adesso non devo fare altro che tagliare. Che tagliare e lasciare solamente l'asola. Il circoletto finito. Vedete? Tenete da parte questo che può sempre tornare utile. Allora, e questo charm è pronto. Ne prepariamo un altro. Allora, c'è questo modello invece. È un po' diverso. Allora, prepariamo un'asola che avvolga questo punto. In questo modo. Ah, ok. Che è un po' più grande. Allora, afferriamo. Vedete, in modo che non possa scappare. E poi avvolgiamo la parte corta del filo attorno alla parte lunga. Qui mi aiuterò con una pinza. Ok? Un paio di volte. Così. Dopodiché potrò tagliare. Quello che avanza. Così. Abbassare un pochino il filo. Ok? E creare l'asola. Per agganciare sempre il braccialetto. Ovviamente. Allora. Farò così. Sto creando le asole. Diciamo, in asse con l'asola inferiore. Con quella inferiore. Perché mi pare che possa cadere meglio. In questo modo il charm dal braccialetto. Ok? In questo modo. Formo il circoletto. E taglio. Ecco qui. Allora, qui c'è un bottone. Vediamo se il chiodino passa. Ma il chiodino passa. Guardate, qui abbiamo un po' di fortuna. Quindi farò solamente l'asola superiore. Ecco. In modo molto semplice ho agganciato anche questo bottone piatto. Ho preso il pezzo di filo. Ho fatto in questo modo. Sono passata da un foro. E poi ho ripiegato il filo al di sopra del bottone. In questa maniera. In modo da avere una specie di uncino. Poi ho incrociato al di sopra i due uncini. In questa maniera. Senza stringere troppo per lasciare un po' di movimento comunque al bottone. Vedete? Dopodiché ho afferrato entrambi i fili in questo modo. E quello più corto l'ho girato attorno a quello più lungo. In questa maniera. In ultimo vi mostro brevemente come ho fatto per il rocchetto. Che comunque è un modo che non si discosta da quello che avete visto finora. Lascio un pezzo di filo. Alla fine. Poi faccio il mio solito gancio. Afferro il rocchetto. E lo appendo. Unisco i due fili al di sopra del rocchetto. Piego da una parte leggermente il filo più corto. Che userò per chiudere l'asola. In questo modo. Ed ora creo la solita asola semplice. Allora, ecco tutti i charm pronti. Allora, dimenticavo di mostrarvi anche la spilla da balia. Che è fondamentale per un braccialetto, diciamo, da sarta. Allora, è che ha poi anche una specie di medaglietta. Sì, una medaglietta. Non so chi l'abbia messa, sinceramente. È una molto carina con un'immagine della Vergine. Vedete? Allora, non ci resta che stabilire dove posizionare i chart e comporre. Allora, voglio mettere innanzitutto la spilla da balia in un punto qualsiasi. No, voglio che la medaglietta si veda. Poi al centro metterò questo. Allora, voglio mettere innanzitutto. Allora, voglio mettere innanzitutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo terminato, il braccialetto bling bling, ora lo misuro. Ciao.